Bellissimo, sì sì ci è piaciuto tantissimo, io avevo anche letto il libro e ci è piaciuto, soddisfatte. Vince l'amore. E come sono le scene di sesso? Il film è gradevole nel suo insieme, le scene di sesso sono scene estreme, però vale la pena di vederlo il film, non stanca, non stanca. Molte scene hard sono presenti, il finale diciamo resta un po' in sospeso. Ma lei ha letto anche il libro? Sì sì ho letto anche il libro. E che le è piaciuto di più? No diciamo il film è fatto molto bene, anche gli attori hanno delle interpretazioni diciamo fatte bene, però certo il libro è un'altra cosa. Boh non lo so, sinceramente eravamo entrate proprio per prenderlo un po' in giro e non siamo riusciti neanche a fare quello perché non c'era niente, quindi niente. L'hai trovato un po' vuoto? Beh ok sì, cioè non lo so, non era per come l'avevano presentato, uno si aspettava oddio, chissà che è, invece insomma niente di che. Grazie a tutti.